direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 6 maggio il jackpot ha raggiunto la cifra di 26 milioni 724 mila 800 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 54 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 46 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 40 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 25 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 10 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 47 è il momento di crociare le dita stiamo per completare la sostilia vincente il sesto numero estratto è il numero 74 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sostina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 7 controlliamo insieme la sostina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 46 40 25 10 47 74 numero jolly 7 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar modifica le vincite super in allotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna elettronica pronti ed ecco il numero superstar è il numero 31 e ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 54 con la settina vincente in ordine crescente 10 25 40 46 47 74 numero jolly 7 superstar 31 l'estrazione di oggi sabato 6 maggio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 26 milioni 700 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 54 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 553.194 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 26 milioni 700 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 27 milioni 700 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 65 mila 80 euro ciascuno i 4 sono 710 e vincono 448 euro ciascuno i 3 sono 30 mila 492 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 469 mila 583 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 295 mila 608 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica 44 mila 882 euro i 3 stella sono 150 e vincono 2793 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2324 2 stella 10 euro vanno ai 15.675 1 stella e 5 euro vanno ai 34.255 0 stella inoltre 151 vincite da 50 euro ciascuna e 22.727 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it io vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 9 maggio giocheremo per un jackpot di 27.700.000 euro arrivederci a presto